Non ho detto amici buddisti, insomma i soldi non li volete fare? Non ho certo, io li voglio fare Questi soldi non li volete, cazzo? Io voglio fare un po' di soldi, ok? Posso vendere di tutto Posso vendere qua, l'Udo al convento di Suore e farla rapare finché si scoprano fra loro Vendo comunque cose Adesso hai capito? Tu puoi vendere di tutto? Bene, vendimi questa penna, cazzo Vendi di tutto? Coraggio Vendimi la penna Posso finire di mangiare, sono digiuno Brad, fagli vedere come si fa Forza, vendimi la penna, guardate Devo vendere questa penna Sì, dai, fammi vedere Questa penna Lui vende tutto Mi fareste un favore, scrivi il tuo nome su questo vaglione Non ho la penna Eccola, basta che domandi, no? Avete visto? Ha creato un bisogno Li portate a voler comprare le azioni Li convincete che ne hanno bisogno, capite che voglio dire? Lo sapevo che questi ragazzi non erano laureati a Harvard Quell'imbranato di Robby Feinberg ci ha messo 5 anni per fare la prima liceo Olden Kupfenberg, detto la lontra, non si è nemmeno diplomato Chester Ming, il cinese depravato, credeva che il jiu-jitsu fosse in Israele Il più sveglio era Nicky Kaskoff Che aveva studiato legge Io lo chiamavo tappetino per quel parrucchino di merda Comunque, datemi i giovani, gli affamati e gli stupidi E in men che non si dica Li faccio diventare ricchi Grazie a tutti